A tutti i bambini del video, noi oggi facciamo la gara di Miao Car e ci sarà anche un po' di traffico. Ok, eccoli, facciamo le presentazioni, prego. Lui si chiama Polpetta. Ciao Polpetta! Lui si chiama Lampo. Ciao Lampo! Lui si chiama Cream. Cream! Ciao Cream! Questo è sempre Lampo. Ciao Lampo, il fratellino gemello. Sì, e poi si sta... Come si chiama? Andiamo a vedere come si chiama questa piccola Miao Miao. Allora, questa piccola Miao Miao si chiama Gabby. Gabby, ciao Gabby! Ciao! Ecco, i gatti stanno tutti in fila, vedete ragazzi? Tra poco ci sarà una grande corsa. Siamo pronti? Però, prima, per andare alla corsa, dovremmo attraversare tutto questo traffico. Va bene, andiamo pronti, via! Mi prendo Gabi Dai muovetevi che devo mangiare tutta la cucina Ehi Gabi Ecco Gabi Guarda guarda da sole Bravissimo Ancora Vai lanciate una Una, due Ecco Ora i gattini devono fare la corsa Chi vincerà non si sa Vediamo la corsa dei gatti E poi finiamo il filmatino per tutti i bambini di Youtube Va bene? Ecco qua La macchinina azzurra La macchinina gialla La macchinina rosa Ecco allora diamoli via Vediamo un po' Carichiamo tutti Caricati 3, 2, 1, 0 Che ha vinto? Che ha vinto? Ecco che ha vinto Ma questo qui non è partito Non è partito Si è rotto il motore Ecco che ha vinto La vincitrice La vincitrice di questo filmato È Gabi Che ha vinto Che ha vinto Che ha vinto Che ha vinto Grazie.